Take joy, O Florence, for you are so great. Your wings beat on the land and sea. Your fame resounds through hell. Among the thieves are found five citizens of yours. Il premio nome l'Abdullah Ratzak Gurnah legge la divina commedia davanti alla tomba di Dante. Si sarebbe dovuto aprire così il Festival delle Cultura Ravenna. Dopo la partecipazione di Gurnah l'altirò perpetua, la Fimana avrebbe dovuto accompagnare tutti i presenti in Darsena, dando il via all'edizione 2023 della rassegna multiculturale, annullati invece dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la Romagna. Gurnah ha comunque voluto essere presente a Ravenna per solidarietà e vicinanza. Ha letto il ventiseismo canto dell'Inferno, il canto di Ulisse, degli inganni, dei contadini che riposano, come i residenti e i volontari di questi giorni, dopo una giornata di lavoro e guardano le lucciole. Sabato mattina Gurnah incontrerà le scuole, 750 studenti con i quali si confronterà su espansionismo, sfruttamento coloniale e su immigrazione. We left that place, and on those stairs that turned us pale when we came down, my leader now climbed back and drew me up. As we took our solitary way among the juts and crags of the escarpment, our feet could not advance without our hands. I grieved then, and now I grieved again, as my thoughts turned to what I saw. Nice to meet you. Thank you, sir. Nice to meet you. Thank you, sir. Oh, oh, thank you. Nigeria house. This is Nigeria. This is their own Nigeria. Oh, we are home here for you. Nice meeting you. Nice meeting you. You're welcome. Good evening, sir. I'm getting married. Just like this. You know, you throw myself here in the room and it's salty sometimes.